Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi il nuovo mukbang di sushi Come potrete vedere ve ne sto portando abbastanza Però stiamo venendo molto spesso al sushi E mi sembra un peccato non registrarvi il mukbang Soprattutto quando ci sono queste situazioni ottimali Di quiete assoluta in tutto il ristorante Quindi meglio di così non ci poteva andare Come al solito siamo da Sakura a Portapia a Roma Come ormai saprete il benvenuto Che ti danno al ristorante Sono gli edamame Secondo voi li dovrebbero mettere in ogni ristorante come benvenuto Perché almeno mentre uno sceglie cosa mangiare Non fate come me però che li fate volare Si mangia il fagiolino di soio Poi ovviamente se uno ne vuole un'altra porzione Allora paga 5 o 6 euro Che comunque su uno scontrino Non è che sono pochi Per prenderti un gunkan E infatti per prenderti un gunkan Io non vedo l'ora E ritorna il wasabino E oggi mi sa che bello piccantino Mi prendo questo Vabbè allora te te ne lascio 4 Vabbè amore Troppo buono Vabbè il salmone me lo lascio per ultimo Qua mangio questo Non mangiate pure questo Vabbè Amore destino guarda si è rotto Vai vai allora metà per uno Allora anche di questo Anche se non si farebbe Ma so se picca Ma vedi quanto è morbido A me le fai due perché Oggi il wasabi è piccantissimo Ma noi non ci lasceremo scoraggiare E come fa Tommaso in Giappone Accarezziamolo Ormai la conoscete che mangia Wasabi come se non ci fosse un domani Guardate ora Wow Non so se si riesce ad apprezzare Appiano la bellezza di questo piatto Ma credo proprio di sì Wow non vedo l'ora Non vedo l'ora Ma io ci metto anche un po' di Wow Non lo so Non so Non so Buonissimo Questo pure Se venite qui Prendetelo perché è spettacolare Che goduria Dovete avere una bocca Molto grande Perché questa alla mano Considerate Wow E ora La nostra amata barca Che ogni volta veniamo qui Prendiamo Perché è troppo buona Ovviamente noi ce la facciamo fare Tutta di salmone Ma io voglio queste tre fettine Però E questi due E questi tre Io inizio da questi qui Perché Tra tutti Mi piacciono di meno Un po' no Che deve essere rivolta verso Di della Qui da Sakura Anche Io so Magli al salmone Riescono ad essere squisiti Assurdo Ma quanto Sono buoni Poi dopo questi video Prometto che tornerò a fare I sushi mukbang A casa Perché Come è bella la mia postazione Per fare i mukbang Non ce ne sono Mi dispiace Vero Ormai L'hai testata a dovere Quella postazione No Mi piace perché Il cibo lì è il protagonista Mentre qui Si risperde un pochino Mi dispiace Fatemi sapere giù nei commenti Se comunque lo apprezzate E' tipo una droga Ma posso mangiarne Tipo all'infinito Finché non scoppio E l'acqua si è chiusa Abbiamo finito La cena E l'acqua è ancora qui Voi chiedete Ma che fai Non bevi Durante no Se ve lo stavate chiedendo La risposta E' no Wow Sono completamente Soddisfatta Però la gioia Che mi rassa cura Quando mangio sushi Non me la danno Gli altri Qui il salmone Ha proprio un sapore Buono Tipo mistico Wow Momento ASMR Dell'acqua versata Dentro il bicchiere Ed anche io bevo Ma che dite Giusto perché siamo Al ristorante Guardate Vedete perché Non vi faccio mai vedere Quando bevo Perché io Non sono come gli esseri umani Io bevo a tranche Non bevo le sorsate Non riesco ad avere un bicchiere E non bere tutto il bicchiere Ma questo per qualsiasi cosa Per questo Ma c'è un problema E io e Cristian Siamo uguali Perché ci siamo fatti Due bicchieroni Pieni fino all'orlo Bevuti proprio Alla goccia Avete visto Finita È vuota Vuota Bottiglia Vuota Anche la bottiglia è durata molto Anche la bottiglia è durata molto Considerate Io non posso avere Io non posso avere le bottigliette Da mezzo litro Altrimenti ogni volta Che ne apro una La finisco Scusate Ho provato a mangiare la foglia Però adesso Me li gusto Come dico io Perché Oddio Ve li devo far vedere Guardate qui Non va Vorrei dire doppia razione Per me Yeah Che buona questa cena Ma questa era la prova Per vedere se Volevamo cenare qui O cambiare il ristorante Guardi Menu degustazione Perfetto Adesso procediamo Con le portate Come sempre Tutto eccezionali Io non so che dirvi Se siete di Roma O passate per Roma Sakura Deve essere Una vostra tappa Assolutamente Perché Ne vale tantissimo La pena Ed anche qui Ho una bella notizia Per voi Perché se venite Potete usufruire Anche voi Del 20% Di sconto Prenutando Sempre a nome Fabriola Genovese Questo perché Noi ormai veniamo qui Da qualche anno Leggermente Quindi non vi preoccupate Anche qui Non ci sono sponsorizzazioni Collaborazioni Semplicemente Un qualcosa Che faccio per voi Dal momento che Appunto Se sono 5 anni Che ci vengo Un motivo ci sarà Se YouTube Lo perdono un anno Insomma Facciamoci due conti In tasca Rimane sempre Quella tristezza Quando finisci Mangiare sushi Non so se a voi capita Potreste capirmi Solo se non mangiate Oliukenit Perché all'Oliukenit Ti maledici E ti chiedi Perché ci sei andato Talmente tanto mangi E quindi Esci tipo Con il mal di pancia Ti ingozzato Ti senti proprio pesato Sì ma perché Mangi anche più Di quello che in realtà Mangeresti Io mi ricordo questa cosa Di quando mangiavo All'Oliukenit Che poi Stavo tipo A fine passo Che dicevo No non voglio più Mangiare sushi Tipo per tot Invece adesso Ogni volta che mangio In un ristorante In un ristorante Di sushi Vero In cui vale la pena Venire a mangiare Poi anche di questo Parleremo E farò un video Dedicato Perché secondo me È importante Che capiate Il mondo che passa Tra l'Oliukenit E un ristorante Di sushi normale Anche perché C'è questa leggenda Che all'Oliukenit Sì ok Mangi quanto ti pare È vero Però Io non riesco a trovare Il risparmio No ma poi soprattutto Alla fine la qualità È quella che è Come si fa a pretendere Che con 20 euro Ti permettono Di mangiare Sushi infinito Cioè ma Fatemi una domanda Insomma chiedetevi Come mai Per non sapere Neanche Chissà in che condizioni È Che poi te lo servono Non so se avete visto Qualche servizio Delle iene Andate a vederli Se non li avete visti Giusto per fare Un po' di chiarezza Che poi Andate a spendere 43 euro minimo Esclusa l'acqua Per mangiare Pesce di scarsa qualità Con un riso Che è fatto apposta Per intopparti Fino alla morte Infatti Fateci caso Ogni pezzo Che vi arriva È pieno di riso Proprio pieno Sì ma poi Non è un riso Bello schiccato I chicchi Sono molto Compatti Pressati Qui i chicchi Li vedi tutti sani Integri Quindi vi ritrovate A spendere in due Quella cifra Quando l'altra volta Dao i sushi Abbiamo speso Sempre 41 euro Comprensivi di acqua E non siamo usciti Da lì Con lo stomaco Che brontolava Assolutamente Anzi Eravamo sazi Qui Uguale Vabbè Oggi abbiamo un po' Esagerato Perché era da tanto Che non venivamo Però con una barca a testa Da 20 euro Generalmente ci saziamo E anche lì Appunto 40 più l'acqua 42,50 Ed hai mangiato pesce Di ottima qualità Quello che bisognerebbe Imparare a fare È sapersi muovere Nell'ambito Della ristorazione Cercare Un buon ristorante Una buona qualità Prezzo E gli sconti Magari Ecco appunto Informarsi Insomma cercate Prima di andare Subito In quel ristorante Solo perché Ah che bello Mingozzo Poi questo È un nostro pensiero Naturalmente Ognuno è libero Per quello che vuole Noi di certo Scegliamo sempre Questa strada Proprio perché Avendo lasciato La vecchia Avendo ormai Sviluppato Solo qui Il nostro palato Un giorno per sfizio Siamo tornati All'Oliukenit Che tanto amavamo Perché prima Per noi Quello era All'Oliukenit Migliore di Roma Un abisso No Non mangi Noi abbiamo mangiato Veramente a fatica Perché ormai Il palato È abituato a sentire Il vero sapore Del salmone Il vero sapore Del sushi Chiusa parentesi Direi che Per questo video è tutto Io vi ringrazio Per aver guardato il video Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Ed iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Io Come sempre Vi mando un bacione E noi ci vediamo Domani con il prossimo video Ciao 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 Ciao